Buona carta di S.D.A.S. e... E' un vecchio principio questo... Un viejo principio... ...muy, muy bueno. Lo spettatore... ...dagna. Se puoi accortare... ...possiamo... ...se puoi accortare... ...assi, per esempio... ...una, due volte... ...una, due volte... ...una, due volte... ...quanta schiera? Si puoi accortare... ...lo spettatore... ...sceglie una carta... ...una carta... ...sceglie una carta... ...ok... ...che mi endala... ...mo saltato... ...escrivervi il po' ...escrivervi... ...escrivervi... ...ok... ...che non è scala... ...escrivervi... ...escrivervi... adesso 234 mescola facendo si si mescola i 234 234 3 abbiamo 1 2 3 dimmene 1 e dire 1 2 2 vuoi ovviare? vuoi anche ricambiare? no 1 as 6 e 1 8 6 e 1 8 9 8 1 9 e 6 15 15 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 13 14 15 15 15 16 16